cari amici buonasera e bentrovati oggi domenica 22 maggio 2022 siamo qui per parlare di mercati valutari di mercati in generale e di un periodo in un periodo estremamente complicato complesso dove ci sono tantissime variabili che stanno influenzando le decisioni degli investitori e queste variabili partono diciamo dalla questione geopolitica che ancora evidentemente non è risolta le diplomazia lavorano sotto traccia ma non c'è ancora alcun segnale di cessate il fuoco nella guerra russo-ucraina dall'altra parte abbiamo una condizione macroeconomica generalizzata che vede nell'inflazione il problema principale tanto è vero che i banchieri centrali di mezzo mondo soprattutto diciamo la parte occidentale del mondo è alle prese con un'inflazione ben al di sopra delle prospettive e bene al di sopra delle aspettative e quindi i banchieri centrali che sono rimasti direi behind the curve cioè dietro la curva per troppo tempo e quindi sono stati in ritardo rispetto al rialzo dei tassi perché già nel 2021 nel mese di maggio l'inflazione americana era oltre il 5 per cento eppure Jerome Powell continuava a dire che l'inflazione non era strutturale ed era temporanea quando ci si è accorti che l'inflazione invece era realmente strutturale nel mese di novembre la fed ha cominciato ad agire prontamente sui tassi e però è rimasta comunque indietro rispetto a quanto avrebbe potuto essere in questo momento con i fed funds che potrebbero essere già oltre il 2 per cento invece siamo all'1 per cento e in questo momento i rappresentanti della fed che settimanalmente parlano di questo argomento come chiaramente il focus su cui concentrarsi in questo periodo parlano di rialzi ulteriori di tassi 50 basis point nelle prossime riunioni fino a portare al 2,5-2,75 per cento i fed funds per fine anno ma i banchieri centrali sanno anche che c'è in atto un rallentamento della congiuntura lo vediamo già negli Stati Uniti con il primo trimestre un PIL negativo al di sotto delle attese e tutto questo succede anche in altre aree quindi c'è la tentazione da parte di qualcuno di pensare che i banchieri centrali possono rallentare in questo il rialzo dei tassi e rialzo del costo del denaro e invece non è così e la ragione è legata al fatto che le autorità monetarie sanno benissimo che si potrà anche entrare in recessione ma a questo punto devono giocare la partita fino in fondo cosa vuol dire devono alzare i tassi e portarli al 2-2,5 per cento per poi quando dovesse esserci una recessione anche importante cominciare a tagliare i tassi in maniera strutturale e dare la possibilità ai mercati di riprendersi questa è la ragione per cui le borse hanno cominciato a scendere perché sanno benissimo gli investitori che da qui in avanti i banchieri centrali saranno aggressivi nel rialzo dei tassi anche se questo porterà alla recessione questo non succede soltanto negli Stati Uniti ma anche in Gran Bretagna dove l'inflazione ha raggiunto addirittura al 9 per cento quindi ben superiore anche a quella americana che è intorno all'8,25 8,50 vedremo poi le settimane prossime se i dati saranno leggermente inferiore alle aspettative un'Europa che ha un'inflazione al 7,5 per cento e quindi l'area occidentale mantiene un'inflazione e un aumento dei prezzi ben al di sopra di quelle che sono le aspettative dei banchieri centrali anche il dato core esclusi alimentare e energie rimane intorno al 6 per cento 6,5 per cento per diciamo Stati Uniti, Gran Bretagna e in parte anche Europa anche se è leggermente inferiore. In Asia invece le cose stanno in maniera diversa nel senso che l'inflazione non è ancora un problema anche se comincia a manifestarsi anche lì qualcosa di particolare l'abbiamo visto in Giappone che l'inflazione tre mesi fa era intorno allo 0,9 poi è salita all'1,2 e nell'ultima rilevazione siamo saliti al 2,4 quindi la situazione è complessa e il Giappone potrebbe anche come dire accettare un tasso di cambio a questi livelli e non pretendere una svalutazione ulteriore sappiamo che depreciare il cambio in questo momento significa importare inflazione nessuno lo vuole fare il Giappone lo accetta perché ha un'inflazione ancora al 2,5 per cento però è salita in tre mesi si è raddoppiata e quindi anche in questo caso bisogna fare attenzione perché potrebbe anche essere il momento dello yen valuta rifugio nel momento in cui le borse dovessero scendere per un rallentamento della congiuntura quindi adesso andremo a vedere l'analisi tecnica tasso di cambio per tasso di cambio e cercheremo di capire quelle che sono le variabili e le dinamiche più importanti che in questo momento andiamo osservando. Oltre a questo bisogna considerare anche le posizioni che ci sono sul CME a Chicago sul COT ovvero le posizioni dei grandi big player sui future ebbene in questo caso noi abbiamo delle situazioni abbastanza controverse perché se da un lato i big player sono long di dollar index per circa 4 miliardi e mezzo di dollari scusate dall'altra parte sulle posizioni sull'euro sono long euro per 2 miliardi e mezzo di euro non è rilevante come importo però quando cominciamo a superare i 2 miliardi 3 miliardi di euro di dollari di posizione cominciamo a guardare le posizioni big players con un certo interesse. L'esposizione maggiore degli istituzionali in questo momento è sulla sterlina sulla sterlina ci sono 9 miliardi e mezzo di posizioni short sterline nonostante la Bank of England abbia segnalato più volte che l'inflazione è un problema e dovranno alzare i tassi esattamente come farà la Federal Reserve ma c'è una sostanziale differenza nell'approccio delle due banche centrali perché da un lato la Federal Reserve mantiene un approccio ottimistico sul fatto che non ci sarà recessione mentre dall'altra parte la Bank of England si è dimostrata leggermente più pessimista parlando soprattutto Bailey di una preoccupazione verso un'inflazione che gli scappa di mano e con diciamo dei dati che in questo periodo non hanno mostrato proprio grandissima brillantezza però bisogna segnalare che nell'ultima settimana le vendite a dettaglio sono risultati superiori alle attese e quindi potremmo assistere ad un'inversione della sterlina. Ora vedremo anche da questo punto di vista l'analisi grafica se ci viene in aiuto su questa analisi. Quindi l'attenzione in questo momento è rivolta sui mercati azionari che se dove essersi il rallentamento economico e nonostante questo le banche dovessero alzare ancora i tassi chiaramente l'azionario rischia veramente un sell-off importante e con questo potrebbe rischiare un sell-off importante il dollar yen. Dollar yen che è il primo che dobbiamo andare a vedere quindi. Un dollar yen che potrebbe tendenzialmente scendere se dovessimo rompere queste aree a 126,80 potremmo scendere addirittura in area 121,122. Se andiamo a vedere il grafico settimanale che è ancora più importante l'area di 122,10 è la prima area di arrivo di una correzione che potrebbe essere anche più importante. Non escludiamo in caso di panic selling anche 115. Non dimentichiamolo che durante la crisi russa nel 1998 il dollar yen è sceso da 135 a 111 in due settimane. Quindi attenzione perché la situazione nel caso di ritorno del risk off col franco svizzero, lo yen e eventualmente anche l'euro nel caso in cui soprattutto la questione geopolitica venisse risolta pacificamente allora potremmo assistere ad un peggioramento della situazione a livello di risk off nel caso in cui le borse continuassero a scendere e di fronte a una congiuntura che dovessero ulteriormente rallentare. Andiamo a vedere quindi altri tassi di cambio. Un dollaro che abbiamo detto potrebbe scendere ha iniziato a correggere, è ancora una correzione per il momento, non si può dire che siamo partiti in un trarimassista, chiaramente il dollaro rimane la valuta per eccellenza in casi di situazione geopolitica pericolosa e così è stato fatto fino adesso, però abbiamo assistito ad un cambiamento delle posizioni anche sul cot e quindi anche gli istituzionali stanno cominciando a complicchiare euro, una rottura di 1,6 e 60 sarebbe un buon viatico per salire verso 1,8. Per il momento secondo noi è un po' prematuro, però su base daily abbiamo rotto la media 21, se dovessimo tenere questi livelli e andare a rompere questo 1,06 e 40 dove c'è costare di super trend e soprattutto i massimi significativi precedenti, noi potremmo anche vedere 1,9, 1,10, il ritorno verso quei livelli potrebbe non essere escluso. Attenzione però perché comunque noi sappiamo che in Europa il rialzo dei tassi saranno forse 1, forse 2 per un 50 basis point, qualcuno dice 100 basis point, soprattutto i falchi della BCE, però staremo a vedere nelle prossime settimane quello che succederà. Andiamo avanti e parliamo di Cable, una sterlina che ha incominciato a girare anche lei dopo aver visto i minimi in area 1,21 e mezzo e una rottura di 1,25 e 10 porterebbe in cambio addirittura a 26,30, 26,50 e perché no di nuovo anche verso 1,27 e 28. Vedremo come sarà l'approccio del Bank of England ai dati sulle vendite al dettaglio che sono risultati migliori delle attese e quindi tutti i cross della sterlina potrebbero cominciare a dare dei segnali. Guardate sterlina Australia che dopo settimane e settimane di discesa, vi faccio vedere un grafico settimanale che forse è più interessante, potrebbe anche ritornare verso 1,81 con un baluardo a 1,80 e 20, quotiamo 1,77 quindi abbiamo 250 punti di movimento e di margine lì sopra. Stessa cosa per sterlina Nuova Zelanda come per sterlina Canada. Settimane e settimane di discesa, doppi minimi in questo momento interessante correzione che potrebbe continuare nelle giornate a venire, quindi attenzione a questi cambi e attenzione anche a Canada Yen perché se dovesse esserci un aumento d'avversione al rischio diventa interessantissimo Canada Yen con degli obiettivi 95 perché non 92, quindi se dovessimo rompere dei supporti, i supporti principali sono 97,70, attenzione ci si potrebbe anche arrivare a buttarsi dentro per entrare in un movimento molto molto interessante. Andiamo a vedere quello che è il petrolio perché quella è la chiave per capire se ci sarà un rallentamento della domanda e finché il petrolio rimane così alto chiaramente c'è il rischio di inflazione che con il rallentamento macroeconomico potremmo addirittura andare a vedere non diciamo stacflazione ma quasi quasi per qualche paese si potrebbe avverare anche questa condizione. Quindi attenzione al petrolio che deve rompere l'area di 92,5-93 per andare a cambiare totalmente il trend, altrimenti rimaniamo un trend rialzista però fino a che non rompe 115,70 e gli ultimi massimi a 113,70 secondo noi rimane una fase distributiva a massimi decrescenti che potrebbe dare qualche soddisfazione. Quindi ragazzi la settimana è importante anche da un punto di vista dei dati perché avremo le minute della Fed e quindi sarà interessante vederle e soprattutto la decisione della banca centrale nozelandese, l'RBNZ che molto probabilmente alzerà ancora i tassi di un 25 basis point. Rimanete con noi, mettete un like sulla pagina degli amici di ActiveTrades, seguiamo sempre i mercati insieme a voi e siamo sempre qui a vostra disposizione. Non mancate, arrivederci e buona settimana e buon trading.